E' rivoluzione in casa Sandro Abbate, continua a cambiare il roster a disposizione di Mr. Piero Basile che guiderà la compagina vellinese per i prossimi due anni ancora. Dopo Lorenzo Ezzi, promesso sposo alla fel di Evoli, salutano in due via Lucio Avellino, che aveva rinnovato il proprio accordo il 24 maggio, e Attilio Arillo, la società erpina avviato un cambiamento in vista del prossimo campionato. Avellino saluta dopo tre anni, dove è stato assoluto protagonista, mentre Arillo dopo una metà stagione importante al suon di gol va via. La sua prossima destinazione è ancora da decifrare, non escluso però che possa rimanere in campagna. In arrivo alla corte di Basile, Dario Giannattasio, laterale lo scorso anno all'Olimpia Verona, e Miguel, più comunemente conosciuto come Kenji, originario di Londrina ma con passaporto italiano, ha anche iniziato relativamente tardi a giocare a futsal, facendosi notare con la maglia dell'Arshiria, formazione degli Emirati Arabi. E' una Sandro Abbate che cambia pelle, ma che comunque vuole restare grande protagonista, provando pure il prossimo anno a mantenere un posto a sole tra le big, tra quelle squadre che vorranno lottare fino alla fine per qualcosa di importante.